C'è un prognostico di 1% 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 di 1%. C'è un prognostico di 1% 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 di 1 e ovviamente se ha la sua repercussione finanziaria per l'entrata nel paese. Un giorno ci sono chiesti di risultato, e ci sono chiesti di risultato, ma quando il governo ha avuto più attività economica e ha ricevuto più entrati, il risultato deve riservare per la riduzione del deficit e anche per la riduzione del debito.